Malattie ereditarie del tessuto connettivo. Sono patologie veramente di una notevole molteplicità sia in termini di numero che in termini di manifestazione. Ne sono state contate più di 200 e anche qui le proteine alterate sono tante, tra cui soprattutto quelle della matrice extracellulare, oltre che del collagene, quindi fibronectine, fibrilline, tenascine, eccetera. Parleremo di Marfan, di Heller-Danlos e di osteogenesi imperfetta. La Marfan è una patologia dove si ha una mutazione del gene codificante per la fibrillina 1, cioè il gene FBN1, ripeto, fibrillina 1. È una patologia che si trasmette per via autosomica dominante ed è una patologia che abbiamo ormai imparato a conoscere nel corso di questi sei anni perché l'abbiamo vista molto spesso dal punto di vista anche clinico in vari esami. Di fatto anche qui le alterazioni sono a livello oculare, per esempio con miopia, l'ectopia lentis, quindi la sublustrazione del cristallino, con rischio poi di distacco di retina, glaucoma, catarata precoce. Alterazioni dello scheletro, perché questi soggetti sono molto alti, hanno delle ossa molto lunghe, le dita che sono lunghe affusolate. Lo sterno, dal momento che questi soggetti sono anche molto alti e crescono molto, si può andare o a incurvare verso l'interno oppure verso l'esterno, quindi abbiamo il pectus carenatus o il pectus piccionis. Poi abbiamo la scoliosi, dal punto di vista cardiovascolare, questi qui ovviamente hanno un'alterazione del tessuto connettivo elastico e quindi ovviamente l'aorta andrà incontro a uno slargamento, quindi diventerà neurismatica, questo provoca anche una dilatazione, un'insufficienza anche della valvola semilunare aortica, poi andando poi ancora ritroso, prolasso della valvola mitrale, della tricuspide, dilatazione dell'arteria polmonare. Comunque sono le principali cause di immorbilità e mortalità, tanto che il trattamento del Marfan viene ad essere ascrivibile un po' quello dell'ipertensione, si danno beta bloccanti appunto esartanici che hanno un po' il compito di ridurre lo stress vascolare. Le sindrome, o meglio le sindrome dovremmo dire, di Ehler-Danlos sono delle sindrome trasmesse da genitori a figli caratterizzate da questa cute che è molto fragile, lasse e iperestensibile e da queste articolazioni lasse anch'esse iperestensibili che ovviamente sono facili alla lussazione. Abbiamo 12 sottotipi di Ehler-Danlos, noi incetiamo alcuni, la forma classica ovviamente ha questa ipermobilità articolare, quindi niente di nuovo sotto il sole, sublussazioni articolari, scoliosi, facili lesioni cutanee, la forma classica viene trasmessa per via dominante, autosomica. Poi abbiamo la sindrome da ipermobilità articolare, la forma vascolare con rottura spontanea delle arterie, quindi può essere accompagnata a un grave rischio di morte, la forma cifoscoliotica, la forma artrocalasica, che quindi si accompagna a statura bassa, e il tipo 10 da carenza o tipo X da carenza di tenascina, quindi forma classica, sindrome da ipermobilità articolare, forma vascolare, forma cifoscoliotica, forma artrocalasica, tipo 10 da carenza di tenascina. Concludiamo con l'osteogenesi imperfetta, che è una condizione patologica determinata da alterazione della sintesi di collagene tipo 1, quindi alterata crescita dei tessuti ricchi in collagene di tipo 1, soprattutto osso e denti. Il tipo 1 è caratterizzato da ossa che si fratturano facilmente già in età puberale, sclere bru, faccia triangolare, perdita di capacità auditiva, collagene normale ma ridotto. Tipo 2 è mortale, il tipo 3 anch'esso accompagnato da fratture già alla nascita, quindi non solo in età puberale. Sclere bru come il tipo 1, faccia triangolare come il tipo 1, denti fragili e fondamentalmente basta. Qui il collagene è proprio alterato, mentre nel tipo 1 il collagene è normale ma è ridotto e c'è anche perdi capacità auditiva. Da ultimo il tipo 4 è un tipo intermedio tra il primo e il terzo.